Questa è l'illustrazione della bontà, della capacità investigativa, della curiosità intellettuale dei militari della Guardia di Finanza che nel corso di un ordinario controllo su strada hanno avuto quella sagace investigativa di approfondire e di scendere nel dettaglio, di non accontentarsi di quelle che potevano essere le giustificazioni iniziali. A questo si aggiunge un bel lavoro di squadra posto in essere con l'Università degli Studi di Catania e con la sovrintendenza perché è chiaro che per avere avuto una datazione certa da un punto di vista scientifico e una pregevolezza da un punto di vista sidistico-architettonico non si poteva prescindere dalla collaborazione straordinaria che i due enti ci hanno fornito. Questo servizio è offerto da Ottica Mannino, Pia Sebastiano Catania, numero 257. Qualità, competenze e cortesia a un prezzo contenuto. Controllo della vista è gratuito. Richiedi il coupon sulla WhatsApp Line in sovraimpressione e avrai la montatura in omaggio se acquisti un paio d'occhiali completo. Nel cuore storico di Catania, il CAF Playa di Buio Giuseppe offre l'assistenza e la preparazione che cerchi e servizi davvero gratuiti. Per la vostra comunicazione e pubblicità aziendale contattateci al 338 37 922 71.